daily cogito svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi ogni mattina dal lunedì al venerdì con rick du ferre se qualcuno valutasse la mia carriera sulla base degli avversari che ho affrontato sconfitto e su quelli che invece mi hanno battuto non capirebbe mai nulla della mia carriera queste sono parole di kobe bryan che mi sono sempre rimaste impresse perché perché oggi voglio parlarvi del concetto di competizione e la correlazione a volte molto inadeguata che questo concetto ha nei confronti del giudizio altrui bentornati intanto a daily cogito bentornati a questa nuova settimana e volevo anche avvisarvi che ieri ha avuto inizio la seconda stagione di filosofar so good che è l'altro mio podcast e quindi vorrei rispondere a una piccola domanda che mi è stata fatta prima di entrare nel vivo dell'episodio odierno mi avete detto a riguardo di daily cogito pensavo ci fosse più filosofia ecco dico due cose in primo luogo filosofar so good è la rubrica eminentemente filosofica in cui parliamo di filosofia politica filosofia della mente filosofia morale bioetica eccetera 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 qui in daily cogito c'è filosofia perché tutto quello che tratto cerco di trattarlo con il mio piglio personale con un pensiero alternativo non solitamente ritrovabile in altri luoghi del web e ricordatevi che fare filosofia non significa citare filosofi però dall'altra parte è anche una rubrica quotidiana quindi capiterà di lasciarmi andare a discussioni anche più triviali più terra terra un po più da bar ma è la natura stessa di daily cogito nonostante questo io spero sempre di scatenare in voi eventuali considerazioni anche filosofiche quindi ecco mi raccomando tenete bene a mente l'anima di questa rubrica che oltre ad essere quotidiana e quindi mi permette di essere un po più lascivo nella trattazione ovviamente spazierà anche sull'attualità e oggi infatti parliamo di una cosa che è sicuramente correlata alla filosofia però è anche legata alla nostra quotidianità nel corso della mia esperienza ho sempre trovato moltissime persone che in qualche modo vedono di cattivo occhio la competizione confondendola con la concorrenza ora vorrei un attimo trattare di questo argomento perché io credo ed è il modo con cui la vivo io che la competizione non abbia a che fare praticamente mai con gli altri molti rifugono la competizione proprio perché spaventati dal giudizio che gli altri potrebbero dare di quello che fanno o molto spesso perché si convincono di non essere all'altezza rispetto agli standard imposti dagli altri o raggiunti dagli altri ora ho voluto iniziare con la fase con la frase di Kobe Bryant perché io che sono vissuto con Bryant proprio come idolo sportivo per me è stato lo sportivo che mi ha aperto il mondo che mi ha fatto vedere non solo alla palla canestro ma anche alla vita di tutti i giorni con un occhio diverso diciamo che è stato uno dei primi veicoli di pensiero per me Kobe Bryant ci sono cresciuto insieme perché insomma lui è entrato in NBA nel 96 se non sbaglio e io io iniziavo a seguire veramente la palla canestro allora e avevo nove anni ora la caratteristica di Kobe Bryant e potremmo dire anche di qualsiasi altro sportivo frasi simili le ha dette anche Michael Jordan anche Magic Johnson e tanti altri di altri sport come Federer e tanti altri la caratteristica di questi campioni è che la competizione è sempre stata rivolta a se stesso a loro stessi cioè cosa voglio dire voglio dire che la competizione non tiene conto della presenza altrui si compete sempre e solo con le proprie capacità potenzialità e con l'immagine che io ho di me stesso la competizione da questo punto di vista è un uno specchio possiamo dire così tanto per cercare una semplificazione la competizione è quella spinta che mi porta a fare qualsiasi cosa e dopo averla compiuta guardarla e dire anche se ne sono estremamente soddisfatto posso fare di meglio io sono sempre in competizione con me stesso perché il mio tentativo è quello di ampliare costantemente il raggio d'azione delle mie capacità dei miei talenti quando invece in questa competizione faccio entrare lo sguardo lo sguardo altrui ecco che non sarò più rivolto al miglioramento ma sarò rivolto all'apparenza il miglioramento nei miei confronti se non sono una persona totalmente mentecatta non è fatta non è fatta di immagini di apparenze ma è fatta per lo meno di onestà cioè io devo essere onesto ad ammettere con me stesso le conquiste i fallimenti le sconfitte le cose che potevo fare meglio le cose in cui invece sono riuscito a eccellere io devo essere onesto con me stesso e devo ammettere quando potrei fare di meglio e devo ammettere il tempo stesso che in realtà posso sempre fare di meglio anche quando raggiunto il raggiungo il risultato massimo questo ha a che fare con l'onestà a che fare con il miglioramento e io personalmente sono sempre stato grandissimamente ispirato da questa idea di competizione non me l'ha trasmessa solo Kobe Bryant me l'hanno trasmesse tantissime tantissimi personaggi tantissime persone che ho seguito nel corso della mia vita e ancora oggi mi leggo a quelle persone che io sento che quando sono in relazione con la competizione non stanno a guardare lo sguardo altrui ma stanno a mettersi in gioco contro se stesse contro i risultati finora ottenuti quando invece nella competizione faccio entrare lo sguardo altrui ecco che per necessità non potrò più essere completamente onesto e dovrò sempre costruire un'immagine di me che non sarà legata ai risultati effettivamente ottenuti ma sarà legata alla percezione che io voglio dare di quello che faccio agli altri ecco questa competizione che in realtà ripeto secondo me è più concorrenza che competizione si compete sempre con se stessi si concorre sempre rispetto agli altri questa concorrenza è molto appesantita dal giudizio degli altri perché perché il giudizio degli altri gioca un ruolo fondamentale nella percezione che diamo di noi stessi e allora lì sì è facile perdersi è facile trovare un vicolo cieco è facile chiudersi e trovare un sacco di scuse come non sarò mai bravo quanto lui non riuscirò mai a fare quella cosa bene come la fa lei non arriverò mai al suo livello e tutte queste cose che in realtà sono un modo per non ammettere il fatto che io potrei sempre competere con me stesso il problema è che la competizione e da questo punto di vista la sua difficoltà come dicevo deve rendermi trasparente a me stesso cioè se io voglio veramente competere devo essere onesto con ciò che faccio e ciò che mostro ai miei occhi devo avere chiari i miei talenti i miei difetti i miei pregi e le mie possibilità di fare quando ho avviato questo progetto di divulgazione da quando l'ho avviato me ne sono sinceramente sempre sbattuto dei numeri delle visualizzazioni delle persone che criticavano delle persone e sto parlando non delle critiche costruttive ovviamente ma di chi vuole denigrare di chi vuole distruggere eccetera eccetera me ne sono sempre sbattuto perché questo progetto di divulgazione è sempre stata una sfida con me stesso io ogni video ogni podcast ogni contenuto io sto competendo con me stesso per guardare al prodotto finito e notare un miglioramento una maggior consapevolezza un maggior divertimento un risultato migliore rispetto alla volta precedente ma poter sempre guardarlo dicendo ma la prossima volta posso fare meglio posso sempre fare di meglio è una sfida costante con me stesso e questo è il modo con cui io credo bisognerebbe sempre vivere la competizione perché e qui arrivo alla conclusione se Kobe così come Michael Jordan così come Federer sono arrivati ai risultati a cui sono arrivati è perché il premio finale il traguardo finale è una conseguenza di quell'atteggiamento se io sono completamente rivolto a migliorare me stesso competendo con i risultati che io stesso ho raggiunto e apprezzato in passato allora arriverò ad ampliare il mio la mia bacheca di trofei diciamo così e questa è una cosa fondamentale da capire perché molto spesso quando confondiamo la competizione con concorrenza quando mettiamo lo sguardo altrui all'interno della competizione sana con noi stessi allora lì rischiamo di cadere vittime di stress inutili voglio dire molti di voi vanno a scuola sappiamo benissimo che la scuola non è basata sulla competizione ma sulla concorrenza molto spesso siamo spinti a migliorare i nostri risultati a scuola sulla base di quello che gli altri fanno e dicono di noi e questa concorrenza è distruttiva perché non potremmo mai essere davvero noi a fare quello che facciamo saremo sempre l'immagine che vogliamo proiettare sugli altri la percezione che noi pensiamo gli altri abbiano di noi quando invece sono competitivo con me stesso io farò sempre quello che compete a me tra l'altro è molto interessante che competenza e competizione condividano in qualche modo la stessa radice perché le mie competenze sono sempre al vaglio della competizione che ho con me stesso e miglioreranno sempre di volta in volta la concorrenza invece mi porta a proiettare le mie energie i miei sforzi sia psicologici che fisici contro gli altri e contro gli altri non c'è mai possibilità di migliorarsi c'è solo possibilità di lavorare sulle immagini attenzione non che questa sia una cosa da eliminare è fondamentale avere consapevolezza delle immagini che proiettiamo sugli altri ma anche questa è un risultato della competizione sana la competizione che dovrebbe muovere tutto ciò che facciamo le nostre parole le nostre opere i nostri libri i nostri podcast video il nostro lavoro tutto quello che facciamo dovrebbe essere guidato dalla competizione nella competizione sono io contro me stesso e in quella cosa lì imparo a conoscermi questo è il motivo ripeto per cui cobi ha vinto tutto quello che ha vinto per cui federer ha vinto tutto quello che ha vinto perché le vittorie non sono state la necessaria immagine da proiettare per raggiungere ulteriori vittorie questo è un circolo vizioso da cui non si esce più e che di solito non ci fa mai vincere niente davvero in realtà le vittorie sono conseguenza del fatto che a ogni traguardo raggiunto traguardi raggiunti sempre avendo consapevolezza della competizione con me stesso questi grandi campioni che sono anche esempi da un certo punto di vista filosofici o comunque di vita questi campioni si sono detti posso fare di meglio e il meglio non è contro gli altri ma è contro se stessi io sono l'avversario che sempre devo affrontare e non c'è mai nient'altro in mezzo a questa competizione è fondamentale è fondamentale nello studio è fondamentale su youtube e qui di nuovo vado a conclusione l'avevo già detto ma in realtà poi ho aperto altre 12 parentesi una cosa importante da capire è che quando noi ci scopriamo ci sorprendiamo a fare cose che non ci piacciono molto spesso se andiamo a scavare a fondo ci rendiamo conto che lo stiamo facendo perché siamo in concorrenza con gli altri e non siamo in competizione con noi stessi la competizione è uno strumento straordinario per scoprire quelli che sono i miei veri talenti le mie reali attitudini competo con me stesso per scoprire più a fondo me stesso questo è quello che dovremmo volere da ogni cosa facciamo ed è quello che mi spinge ogni giorno a fare quello che faccio se non avessi questo io non starei facendo questo meraviglioso lavoro che è chiacchierare con voi portarvi filosofia letteratura portarvi le cose che amo e portandovi le cose che amo ogni giorno guardo quello che ho fatto e dico domani posso far di meglio ecco io spero che questo argomento sia di interesse sicuramente ci torneremo perché è una delle domande che ricevo più spesso il problema della competizione con gli altri del risultato eccetera eccetera però ci torneremo sicuramente ditemi voi cosa ne pensate con un commento ovviamente ci sono tante cose da aggiungere ma in questi pochi minuti non possiamo aprire dibattiti troppo lunghi ma sicuramente ripeto tornerò sull'argomento io ho detto questo vi abbraccio vi ringrazio per l'ascolto diffondete l'episodio mi raccomando lasciatemi un commento lasciatemi recensioni su itunes e noi ci sentiamo domani mattina e come sempre vi ricordo che non è tutta noia ciò che pensa buon lunedì a tutti voi